Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Beh ragazzi bentornati sul cane Granas E oggi siamo con un pack opening speciale Perché oggi sono usciti i Toti E quindi ci sono soltanti difensori Cercheremo di trovare qualcosa E il portiere porco 2 che è soltanto difensore? C'è il portiere che ovviamente è il dio dei portieri Neuer Che non ha vinto il Palone d'Oro però quindi Lo succia che sta andando Sì anche Neuer è il portiere più forte del mondo Ok quindi cercheremo di trovarlo perché ci servirebbe tantissimo Perché avendo la Bundesliga ci servirebbe tantissimo Quindi ne avrei il primo e niente Posso dire anche qui che non ha una voce Cioè lui non ha una voce Dagli Perché ma era Howard perché mi ha aperto Griezmann Boh Attenzione Oh Alderweireld Il primo pacchetto Griezmann ho aperto quello piccolo Odione Attenzione Attenzione Iborra Iborra Grande Iborra Si sborra Si sborra Belvedere Si sborra Attenzione Azzardo è fatta bene Vedeno Lo so Lo so Lo so Lo so Dzeko Cabella Mi ciucce la cabella C'è sta come fa Pazzesco clamoroso Il terzo pacchetto Questa è Howard Ma tu ti hai venuto 10 euro E certo Anche a rampa Rampazzo Sessione Howard Credibile oscar Oscar vale Oscar vale Oscar vale Sono 4 kg di d'oro Attenzione Alla 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 Faccio Col faccio Compagnia De cristo No De cristo No De cristo Un cazzo Ma te che arriva Vedero Se continui così Valentina Sono Vene Il Il Merda Oh Guarda Sono rimasti Sono loro Guain Gonzalino Cattodino Oh cazzo Tutti e ceci Stanno trovando Porta la donna Siamo Alla Metà Siamo In the Alt In the Alt In the Middle Ciao Siamo Soprattutto Zanz Zanz Questa Cugine Zanz Infine 25 Piagredi Un pacchetto Rimasto L'ultimo Con questo Si chiude il video Oh ma solo c'è Vedete Sono fatto Tutti al Cerci Oh ma C'è Di a me È trovato Compa Di Oltre Tantra C'è Il cazzo Io voglio Un toti Totico Howard Non è Non è Non è Non è Non è Non è OLE Howard Credibile Barmelen Fermalen Che Barmelen Si chiama Fermalen Fa Malen La La F Fermalen Se Ho detto O il nome più corto di FIFA Nome più corto di FIFA Attenzione Oxlade Chamberlain Attenzione Attenzione ne mancano due Il cazzo E questo è Dio E due In greco Vai 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 Oddio Pianic Mandata una volta Pianic Mandata una volta Bartra Bartra Morta Pianic Allora Questo è l'ultimo Porca Troia Porca Valero Vai Non l'avevo sbagliato è blu non posso trovare l'anziale come ultimo pacchetto quanto me ne frega il cazzo ma cioè Schwarzenegger era nero era Schwarzenegger tanto qua si trova sembra tipo veneto mannaggia di santo è attaccato fai in arte di 10 pure qua ma no ma tutto vero è lunghissimo come il cazzo mio ma non me ne frega un cazzo diciamo di un salo iwayne oh l'avevo visto bravo che ancora lui rapiglia dacci te anche te bali infatti non lo trovo un cazzo perché tu bali la torre di babel se babel se ti dà giù i pantaloni c'è la torre di babel devi fare così diciamo che arriviamo al milioni di credi tondi tondi un cocomero oh per tonken anche pazzo grande pazzo fabio grande diciamo sempre 3 milioni a puntata vabbè me potrei fare tipo 4 rose da premier 4 4 4 4 che attenzione 15 per chiedi racconto solo 50 mila di più 97 88 valotelli muore valotelli no volevo scattarlo sbagliato lionel il lionel perché un leone jackson prossimo questo da romano è vero vabbè l'ultimo portagona azar attenzione se tu nemmo godin o il godin dai ero ma che merda ma che merda Pittarabti 5 skill per lui ecco dai dai facciamo uno per uno dai facciamo uno per uno per noi dai facciamo uno per uno per noi dai facciamo uno per noi credibile no no che cazzo hai porca m***a non esistire dai su aree dai su madonna dai oh per un morso va fammi scartare una a me no dammi a me madonna è un giocatore ecco noi credibile non trovo mai nessuno una volta che trovo uno posso decidere di me consiglia è pure portiere tra l'altro ultimo pacchetto di quest'oggi l'ultimo l'ultimo pacchetto di quest'oggi e poi si va a casa vabbè raga il video è finito abbiamo trovato su ares ma non ce l'abbiamo più perché se divertite a scrittarlo comunque niente è bella l'ultimo pacchetto di quest'oggi